Presidente Brunetta, come giudica la riforma della pubblica amministrazione annunciata da Renzi? Per il momento sono partito e stanno partendo 3.250.000 lettere o mail. Questa è la riforma che Renzi ha annunciato. Ma al di là delle battute e delle controbattute, riformare la pubblica amministrazione è un fatto di volontà politica. Gli strumenti ci sono già tutti per fare la mobilità, per fare il merito, per premiare il merito, per la trasparenza. Gli strumenti ci sono già tutti. Ci vuole volontà politica. E qui stupirò Renzi. Se lui ha la volontà politica di far funzionare la pubblica amministrazione, noi ci stiamo. Fare la mobilità, gli strumenti ci sono tutti. Basta volerlo e non farsi bloccare dai sindacati. Renzi lo vuole? Noi siamo con lui. Per fare la trasparenza, gli strumenti ci sono tutti. Renzi lo vuole fare? Noi ci siamo, siamo con lui. Per fare qualità, la valutazione, la premialità, gli strumenti ci sono tutti. Renzi lo vuole fare? Noi siamo con lui. Se Renzi invece vuole fare solo giochi per fare bolle di sapone e per conquistarsi un po' di consenso politico, ecco, saremo contro. Se però lui vuole fare la riforma della pubblica amministrazione dalla parte dei cittadini e dalla parte dei bravi, tanti bravi dipendenti pubblici, noi saremo con lui. Questo è un fatto di volontà politica. Ha la volontà politica di farlo? Ripeto, noi saremo con lui. Non ci sono strumenti nuovi da inventare perché nel passato sono già stati tutti trovati e sono già tutti leggi dello Stato. Basta attuarli. Avrà questa capacità? Se sì, ripeto, noi saremo con lui.